Colore viola, niente fiori sull'altare, dovrebbe essere anche l'organo che accompagna soltanto i canti e non suona di più, le messe senza gloria, senza l'alleluia, così si sta presentando la liturgia in queste domeniche di quaresima che abbiamo iniziato mercoledì con la liturgia delle ceneri e iniziato anche con il campanone, il Don Riccardo che è qui con noi oggi ce l'ha anticipato l'altra volta che lui a Villa d'Ogna, Ogna, Nasolino e Valzurio suona il campanone della mezzanotte e dice non sarà certo la gente che per questa eccezione che facciamo viene a lamentarsi, anzi se si vuole essere saggi è bene che quel campanone suoni perché abbiamo a raccogliere qualche motivo che ci accompagna in questo tempo, il campanone, le ceneri. Il rito delle ceneri che ovviamente ha detto della fragilità dell'uomo ricordati che sei polvere, polvere tornerai. I tempi e i mesi che stiamo vivendo hanno forse portato un po' di riflessione e di saggezza della vita di tutti, anche di quell'uomo dell'orgoglio, di quell'uomo della potenza, di quell'uomo che pensa di avere in mano lui le chiavi della vita e della storia. È bastato poco che poi è diventato troppo, è diventato tragedia a dirci appunto che siamo fragili, siamo facilmente colpibili. E allora ci ricordiamo che siamo polvere, non dimenticando però che da quella polvere Dio, soffiando dentro il suo spirito, prima pagina della Bibbia, ha creato la bellezza e la dignità dell'uomo. Questo dobbiamo sempre tenerlo in conto. Quando la Chiesa parla di polvere non è per umiliare, ma per rendere saggi nel ricordo appunto della fragilità, in modo che non ci crediamo onnipotenti e ci affidiamo quindi a Dio, ma pensando che in questa polvere Dio ha soffiato il suo spirito della vita. È la nostra grandezza questo essere immagine appunto di Dio. E poi convertiti e credi al Vangelo. È questa strada della Quaresima che ci apre a rimettere un pochettino ordine nella vita, a capire da che parte stiamo andando, se stiamo prendendo delle circonvallazioni che ci portano fuori il luogo o se stiamo invece intraprendendo il sentiero del Vangelo, che è un Vangelo di vita vera, come dice Gesù. E allora ecco, fatta questa partenza, che speriamo abbia in un modo o in un altro coinvolto tutti, perché i segni parlano tante volte più delle parole che pronunciamo, dobbiamo anche pensare un po' come la Quaresima è sempre stata attraversata da gesti, da segni classici, diciamo. Classici perché erano un po' nell'abitudine. La preghiera, il digiuno, l'elemosina. Sembrerebbe a volte di parlare di cose, si userebbe dire, dell'Antico Testamento, ma o di robe altri direbbero del Medioevo, come se il Medioevo fosse soltanto buio, invece non fosse un tempo altrettanto luminoso. E allora ecco, forse è il caso di rivisitarle queste realtà. Se vi permettete la citazione, quest'anno, nella mia parrocchia di Torre Boldone, in quelli che sono gli incontri settimanali che terremo in Quaresima, faremo una rivisitazione di questi gesti classici, perché vengano fuori da un'abitudine o dal pensare che sono ormai sorpassati, e ridare naturalmente però un senso che dicano qualcosa all'uomo d'oggi, che vive una realtà diversa rispetto a quella di 20, 30, 50, o peggio ancora, 100 anni fa. Una volta appunto c'erano i Quaresimali. Quaresimali era il tempo della predicazione solenne, il tempo della convocazione della gente a riflettere sulle valenze forti. E in effetti il titolo che abbiamo dato a questa volta, la rubrica, è il duello quaresimale. Bisogna avere un po' di età per ricordare questi duelli. Anche il Don Riccardo, quando parlavo di duello, pensava che io mi riferissi al duello tra la vita e la morte di cui si parla a Pasqua. Il nostro regista Vladimir era stato lì un po' perplesso di fronte al titolo Il duello. Ma in effetti i Quaresimali erano fatti tante volte in forma di duello tra quello che era chiamato l'intelligente e l'ignorante. Erano due preti che duellavano tra di loro perché uno faceva la parte di quello che era un po' ignorante, non sapeva le cose, o raccoglieva le domande normali che la gente si fa sulla vita, sulla fede, sull'oggi e sul domani e quello che faceva la parte dell'intelligente che cercava di dare le risposte. Ecco questo duello quaresimale. Don Riccardo, il duello quaresimale sui temi forti della fede. Appunto quest'anno tenteremmo, ripeto, nella mia parrocchia almeno, di recuperare, senza fare duelli, quindi rispettandoci fino in fondo, a chiederci che cosa resta di queste realtà classiche della quaresima, che portano anche a degli impegni e a dei gesti classici. Allora io vorrei che Don Riccardo ci aiutasse in questa passeggiata. Innanzitutto la preghiera. Ecco, chiamati a un tempo di più intensa preghiera. Che significato può avere nell'ieri, ma soprattutto nell'oggi, questa convocazione e questo gesto quaresimale? Tu hai detto che cosa resta di questi segni. E' vero che in questo duello che stiamo facendo sei tu il saggio e sono io l'ignorante. Però non mi piace come hai detto che cosa resta. Quasi a dire che sì, nel nostro mondo ormai si stanno acquando tutto e quindi magari ergotina, riusciamo a tenere buono delle grandi cose del passato, ma ormai siamo incamminati verso il viale del tramonto. Ecco, invece credo che dovremmo tornare ad essere un pochino più convinti anche noi, non solo della bontà di proporre degli atteggiamenti come la preghiera, ma nel renderci conto che ogni uomo ha bisogno di interiorità e di preghiera. E lo vediamo, sì, tanti magari hanno messo il Vangelo perché sembra una cosa del passato e magari è anche un po' colpa nostra che non siamo stati capaci di presentarlo in maniera bella, però piantiamolo anche sempre di dire che è colpa nostra perché non è che abbiamo tutte le colpe noi. Un po' lo stile moderno che magari guarda un po' con sufficienza tutto questo e poi andiamo a recuperare, o si vanno a recuperare, perché magari noi non siamo dentro in questa cosa qui, le meditazioni con la natura, quelle cose che vanno un po' di moda adesso, fare yoga nel bosco, intanto si leggono anche qui nelle nostre zone, persone che sono intente a recuperare le antiche tradizioni e poi si va a fare la yoga nel bosco. Io dico, ma la menona non faceva yoga nel bosco che pure viveva le antiche tradizioni. Per dire come siamo un po' bislacchi anche noi, nel cercare di recuperare le cose antiche e poi siccome ci manca qualche cosa andiamo a pizzicare di qua e di là, cucendolo un po' addosso al nostro interesse o magari al nostro piccolo business, perché alla fine sono queste cose qui. E con la preghiera invece è qualcosa di grande, di difficile, per carità, nessuno ha mai detto che è qualcosa di facile, però che dà un respiro alla vita che ti fa sentire appunto come dicevi tu all'inizio. Sì, siamo polvere, siamo fragili, ma questa polvere è piena dello Spirito di Dio e lo Spirito di Dio trova appunto se stesso nel momento in cui dialoga con Dio. E noi che siamo fatti immagini e somiglianze di Dio è proprio nel momento in cui siamo in comunicazione, in dialogo, non in duello, ma in dialogo con Dio, che appunto ci rendiamo conto di quella grande storia che è pure iscritta nella nostra piccola cosa, nella nostra piccola vicenda, nelle nostre giornate. Quindi buona cosa che la Quaresima ci ricordi la preghiera, magari anche quella più semplice, a portata di mano, si guarda sempre un po' con sufficienza il rosario, però pensa questa preghiera, che magari non è quella più quaresimale per l'amor di Dio, che la possiamo fare ovunque, mentre appunto senza avere quella attenzione, quella concentrazione, ma che permette anche a tanti tempi che sarebbero morti o di attesa, o mentre sei in macchina, di dialogare con il Signore. In effetti dice anche di Gesù, si ritirò nel deserto, si ritirava nel deserto in luoghi solitari a pregare. Questo sguardo sul Padre e quegli apostoli che allora gli dicono insegna anche a noi a pregare. E Gesù che dice venite un po' in disparte anche voi e riposatevi con me. La preghiera come respiro e come riposo. E poi il digiuno. Ormai abbiamo per carità superato la faccenda del distinguere il digiuno dalle diete, che ci mancherebbe, l'abbiamo detto e ripetuto e viene fuori dalle orecchie. Ecco, questo aspetto qui però direi è veramente caratteristico del tempo quaresimale. Ecco, rivisitato e ripensato, magari nelle modalità e nelle forme, cosa dice, cosa può dire anche all'uomo del nostro tempo. Ma credo che il digiuno abbia un po' un suo fascino. Innanzitutto, l'imporsi volontariamente delle rinunce, che costano anche un po' di fatica, che può essere la rinuncia al cibo, può essere la rinuncia a tante altre cose, la rinuncia al fumo, per chi fuma, il famiglia begnacchèl, per l'amore di Dio, perché la rinuncia magari a passare troppo tempo in cose che non sono essenziali, ci aiuta un po' a ricalibrare il nostro tempo. Ecco, non il digiuno solo come esercizio stoico per dire io resisto, anche se ci fa bene anche questo, perché sapere che non siamo comandati dalle nostre voglie, penso sia qualche cosa che ci permette di tenerci in mano e di sentire che siamo noi con la nostra volontà a dare la direzione alla nostra vita e non siamo portati in giro di qua e di là dalle voglie o dalle cose bislacche che ci saltano per la testa. Quindi anche questo qui ha una sua valenza profondamente cristiana, ma anche profondamente umana. Però appunto il digiuno cristiano è anche qualche cosa in più, vuol dire lasciar perdere magari delle cose non essenziali per ricalibrare un pochino la nostra giornata, per fare un pochino il punto, diventa un po' quel ritiro che ti permette di riprendere poi la vita con maggiore decisione. In ambito sportivo non fanno i ritiri anche gli sportivi, in cui appunto si dedicano all'allenamento, lasciano perdere tante cose, perché possano iniziare un anno magari così agonistico, con maggiore forza, con maggiore coesione, con maggior spirito di squadra. E con la quaresima, il digiuno della quaresima è qualche cosa di simile. Tant'è che anche qui Gesù, troviamo nel Vangelo, di fronte a certe forme di male aggressive, dice non si vincono se non con la preghiera e con il digiuno. La preghiera perché dà certezza che Dio ci accompagna e ci dà Lui la forza, anche là dove noi siamo appunto più fragili di fronte al male, ma il digiuno proprio perché un po' rafforza la nostra volontà, come è stato ben detto, ma ci aiuta anche a mettere un po' ordine e a ricapire quello che conta, quello che conta di meno e quello addirittura che può essere nocivo per la vita. Quindi a mettere ordine nel cammino e nelle scelte della nostra vita. La preghiera, il digiuno, l'elemosina. È una parola che piace poco. Piace poco a chi la fa, oggi dire faccio l'elemosina. Certo non piacerebbe a chi riceve l'elemosina, però la parola credo che possa essere anche qui ritradotta, ritradotta anche con altri termini se vogliamo e lo stiamo facendo, ma soprattutto rivisitata o riconfermata in quello che è il senso vero di questa parola che passa dentro il cammino quaresimale. Si hai ragione, forse l'unico luogo dove si parla ancora di elemosina è la Chiesa, dove appunto si passa a raccogliere l'elemosina, oppure ti trovi la cassetta con scritto elemosine, poi dopo è effettivamente un termine caduto in disuso. Però appunto mi sembra che l'elemosina quaresimale sia collegata un po' con il digiuno. Tu digiuni, rinuncia a qualche cosa, ma appunto non è che rinuncia a qualche cosa, metti via e poi alla fine quando hai fatto un bel gruzzoletto te lo usi per qualcos'altro ancora per te. Dovrebbe essere il dire ecco io rinuncio a qualche cosa che mi costa impegno, mi costa fatica, per diventare il padrone di me stesso, per ricalibrare un po' il mio tempo, ma quello che ho messo in parte non concedendomi quelle cose è qualche cosa che io metto nella disponibilità del dono fatto dagli altri. Allora ti rendi conto che il frutto del tuo digiuno è qualche cosa che va a arricchire l'altro. Quindi crea davvero un circolo di bene che poi a sua volta l'altro arricchito dal tuo dono sarà più contento e riuscirà ad arricchire gli altri e quindi si crea ad avere un circolo virtuoso di bene che sfugge sicuramente alle cronache. Però è qualche cosa di bello. Il bene che faccio io genera bene in un'altra persona che potrà poi rigiocarlo in altre realtà e il bene si moltiplica partendo dalla mia piccola o grande rinuncia. E credo che questo sia proprio un po' il senso dell'elemosina o della capacità di carità, di dono, la maggiore generosità, chiamiamola di più, chiamiamola anche così, che può caratterizzare questo tempo di quaresima. E quindi è bello precisare, Don Riccardo, che elemosina o parole simili che la rendono meglio non è semplicemente un fatto da monetizzare perché le modalità dell'elemosina direi copre dei volti a volte anche più significativi e più importanti del soldo che tu puoi dare. Ma certo, pensa il dono del tempo. Ecco, rinuncio magari a farmi una passeggiata io per gli affari miei anche se mi piace e quell'ora lì, quella mezz'ora, la dedico a un'altra persona. Vado a trovare qualcuno, faccio una telefonata, cerco di essere vicino. Ecco, allora, qui diventa davvero il dono di sé attraverso il tempo donato che appunto è qualche cosa di ancora più grande. Ma possiamo diventare molto creativi e ciascuno può trovare appunto le strade per fare l'elemosina che nessuno può dire no, io non posso perché non ho neanche il necessario per me. Perché è davvero di tempo, di amore, siamo poveri ma siamo ricchi tutti e possiamo arricchire gli altri. Anche perché l'elemosina ci insegna proprio che quello che io dono non viene perso, ma anzi mi viene ritornato o moltiplicato e credo che la vita dei Santi anche sia proprio un po' un segno di tutto questo. Interessante anche, ora non abbiamo più tempo, di vedere come il cammino della Quaresima di quest'anno è caratterizzato in modo particolare. È la liturgia del cosiddetto Anno B che è accompagnato in parte, penso ai Vangeli Domenicali, da Marco e poi anche da Giovanni. Don Riccardo, la caratteristica di questo Anno B con questi due evangelisti, in breve quale potrebbe essere detta. Ma sei molto più esperto tu di me, però credo si potrebbe pensare che questo Anno B ci fa fare un cammino verso la Pasqua riflettendo sul tema dell'alleanza. Ecco, l'alleanza che viene, per così dire, insidiata dal male, la prima domenica alle tentazioni. L'alleanza però che diventa già un anticipo appunto dell'eternità, della trasfigurazione. E poi ancora l'alleanza che viene vista come quella realtà che in Cristo trova il suo tempio, il tempio in cui davvero puoi abitare per essere in comunione con il Padre attraverso lo Spirito Santo, per arrivare poi a contemplare la croce come il momento in cui l'alleanza diventa la nuova alleanza. Appunto non su una legge, era l'antica alleanza questa, che anzi mette in vista ancora di più le tue infedeltà, ma appunto sulla strada dell'amore, sulla strada dell'amore donato, che nella croce trova la sua immagine. Bene, mi resta semplicemente un pizzico di tempo per precisare, non ho voluto farlo prima, per non interrompere il nostro dialogo quaresimale sul fatto che il nostro giocare in due, in questa rubrica, non è tra l'intelligente e l'ignorante, chiaramente, ma è tra due persone dove uno fa un po' da coordinatore, se volete, e dice pure la sua, ma dove dall'altra parte viene con motivi di saggezza, altro che di ignoranza. Questo lo devo precisare perché giustamente il duello che qui si fa non è il duello tra l'ignorante e l'intelligente, ma tra due, non vogliamo dirci intelligenti, per carità sarebbe quasi superbia, ma tra due che hanno ambedue qualcosa, speriamo di positivo, da comunicare ed è quello che tentiamo di fare con voi ogni settimana. Detto questo, grazie Riccardo della tua testimonianza, grazie a voi che ci seguite e come sempre l'augurio di una buona domenica.